Cantando, ballando Cumbia Divina DJ Beppe Oh, oh Grazie a tutti. 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 Ma te li ricordi i nomi di tutte queste ragazze? Te li ricordi? La nostra cucciola, Sara, Cosetta, Giovanna, Nazarena, Virella, Sabrina, Anna Maria, Luisa e Maria Rosa. E allora non sarebbe cantando o ballando se non si ballasse anche. Se non si ballasse soprattutto. Quindi grazie a tutte le mie carissime ballerine. Mi avete fatto un regalo meraviglioso. Grazie a tutti, grazie di Jay Beppe, ci vediamo dopo. Grazie a te.